Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite riguardante il nostro buon e caro Galactus Ma ovviamente prima di cominciare, visto che sono uno dei vostri youtuber preferiti ragazzi Se vi va ovviamente di supportarmi nel negozio oggetti con il mio codice creatore appunto che andiamo a mettere Visto che è scaduto e lo facciamo appunto insieme tutti quanti in questo video Il mio codice creatore è Hyperleget, se siete nello shop magari taggatemi anche su Instagram E grazie mille a tutti quelli che mi supporteranno per un piccolo aiuto nel negozio oggetti Ora riprendiamo subito quel video ragazzi, ritornando a noi appunto Che cosa ha fatto Galactus? Dove è andato? È sparito? Non è sparito? Visto che oggi non sono in live, perché oggi domenica, di solito domenica non faccio quasi mai live Ma ovviamente mica poteva mancare l'informazione, la news, by legit Ovvio che no ragazzi, bene, sono alle circa le 11 e 16 minuti con esattezza ragazzi E quasi un'ora fa, mancano circa 5-6 minuti per un'ora Ho visto un tweet che hanno detto ragazzi che è sparito dietro le montagne Galactus Ma cosa sta facendo dietro a queste montagne Galactus? Ma comunque non perdiamoci in chiacchiere e andiamo in mappa a scoprire cosa sta facendo questo mattacchione di Galactus Se non sarà andato io per sempre, sarà sparendo per davvero? Chi lo sa? Andiamo a vedere Prendiamo quest'altra area condizionata che magari da sti pizzi lo vediamo meglio Anche se spero dietro le montagne e suppongo che è difficile vederlo Ovviamente poi lo andiamo a vedere dopo meglio nel replay eh ragazzi Ma infatti era qui raga dove sto puntando io ma non c'è più Ma veramente non c'è più ragazzi Ah Intravedo qualcosa proprio dove c'è il puntino dell'ombrellino raga Però niente di così eccessivo Ora provo a buttarmi dal bus verso sabbie sudate Perché era da lì che si vedeva tantissimo E vediamo un poco perché io davvero non lo vedo più ragazzi Andiamo verso sabbie Comunque raga io sono ancora in volo Nel mentre ho controllato un po' dallo smartphone Dalla live di ieri per l'appunto Perché per fortuna non l'ho cancellata dal canale Ed è questa la traiettoria Io pensavo che avessi sbagliato la traiettoria ma invece no Invece no raga Non ho sbagliato nulla Cioè non c'è più Galactus È sparito per davvero Un'ora fa era dietro queste montagne Ho visto anche una piccola foto ripeto da Twitter e quant'altro Ma Non c'è niente qua raga Non c'è più Andiamo a vedere dal replay Ok raga Io sono qui dal replay Col drone libero Come potete vedere E questa è la traiettoria che ci interessava a noi Ovviamente Qui ieri vedevamo praticamente tutto raga Da questa esatta zona Perché ripeto Mi sono anche messo a vedere di nuovo dal Dalla live Perché pensavo di aver sbagliato io traiettoria Ma invece no raga Proviamo ad alzarci un pochettino Magari alzandoci Più di così non mi fa alzare No Non mi fa ne alzare Ne andare avanti raga Indietro si ma non mi fa ne alzare Ne andare avanti Ok Quindi proviamo a zoomare un po' Questa era tutta la traiettoria Vedete da qui Dove sta la freccia qui A qui Era tutta la traiettoria ragazzi Dove appunto Si intravedeva Galactus Ed era qua Più o meno Ora da quanto ho capito raga Man mano si spostava da queste parti Perché Ieri erano le 4 In circa in live Perché ogni 2 ore Praticamente si spostava Veramente in verità I leakers importanti dicono Che si spostava anche addirittura Ogni minuto O varie frazioni di secondi Come ho visto appunto su Twitter Dalle news e quant'altro raga Però si intravedeva bene Che si era spostato Ogni 2 ore Quindi Man mano Noi da sabbie Lo vedevamo spostare Verso sinistra Di sabbie E ora praticamente raga Dovrebbe essere finito Dietro queste montagne Sono del tutto sparito Ma la domanda Più carina è Dove è andata a finire? La domanda che ci opponiamo tutti Dove è andata a finire? Ovviamente Dietemi voi cosa ne pensate Sotto nei commenti raga Perché Addirittura ieri si vociferava Di un certo counter Di un timer Perdonatemi Che doveva apparire Per l'appunto L'evento di Galactus Ci doveva essere Ma Zero raga Non è apparso niente purtroppo Ma intanto Galactus è sparito Poi la cosa più carina raga Che se io vado ora A farlo con voi Allora Insettiamo gli FPS Così magari posso fare Anche la copertina Ma se io metto tutto Ad epico raga Ieri quando si vedeva Galactus Praticamente Qui scompariva raga Scompariva qua Questo facciamo vedere Che questo era Galactus Raga ok Poi queste nuvole raga Sembrano le corna di Galactus Però vabbè Lasciamo stare Queste nuvole qui ragazzi Mettendo gli effetti Come se coprissero Galactus Ma se invece io entravo In game Con gli effetti Attivi E vedevo Galactus Se li toglievo Non me lo facevo vedere più Invece se li mettevo Me li facevo vedere Cioè Era tutto Misunderstanding Raga Davvero complicata la cosa Infatti in live Si volciferava di un bug Un qualcosa A me Non sembrava un bug Sembrava che volesse Significare qualcosa Però oddio Può essere comunque un bug Ripeto Fatemi sapere Voi sotto nei commenti Cosa ne pensate Ovviamente Ok ragazzi Io sono ritornato in lobby Fatemi sapere Ripeto Cosa ne pensate Voi sotto nei commenti Di questo video Ovviamente Il TG Legit Non mancherà Con Galactus Sia in live E così via Tipo per esempio Molto spesso sapete Che io vi osso Le custom Proprio per allenarci E quant'altro Ma ieri non ho fatto Né custom Né provini Raga Anzi Se volete fare provini Iscrivetevi al canale Che potete provinare tutti Se siete nuovi Ovviamente Iscrivetevi Seguitemi su Instagram Legit.97 Lo trovate in descrizione Il link di Instagram E niente Che dire ragazzoli Io sono sempre più che sconvolto Perché Cioè Allora raga Pass battaglia Pass battaglia 30 novembre Finisce la stagione E questo piccolo Evento Quando ci sarà Cioè Non capisco Che poi Alla fine qui È sempre uguale Raga Questo punto di nuovo Interrogativo Punto esclamativo Perdonatemi È sempre qua Da qui non si smuove Il fumetto È sempre lo stesso Raga Non è cambiato Praticamente nulla Se lo andate a vedere Non è cambiato nulla Cioè Entrà tre anni per caricare Invece no Vedete raga È sempre lo stesso Dal fumetto Non è cambiato nulla Così due settimane Oddio Questa cosa non lo so Bru? Ah no no Ok È sempre la stessa È sempre la stessa È sempre la stessa Ragazzi Ok È sempre la stessa storia Ok 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 Non è cambiato nulla Nemmeno nel fumetto Raga Che io me lo ricordo Così eh Ripeto Fatemi sapere anche Sotto nei commenti Cosa ne pensate Anche del fumetto Io me lo ricordo Sempre così ragazzi Spero di esservi stato D'aiuto con queste Piccole e poche news È sparito Effettivamente Che dirvi Grazie mille Grazie mille Se vi siete iscritti Già al canale Mentre guardate i video Se avete lasciato Un mega pollicione In su Noi ci vediamo In un prossimo video live Mi raccomando Se volete supportarmi E darmi un po' D'aiuto Nel negozio oggetti Sapete il supporto Un crudore Che dovete Aggiungere È questo qui Ragazzi Mi raccomando Se sono il vostro YouTube preferito Lasciate un mega like Iscrivetevi al canale Se vi va E per la gestione Nello shop Ciao belli Grazie mille